Hai bisogno? Le acche di Bergamo ci sono. A causa del coronavirus molte famiglie del territorio bergamasco hanno subito una grave crisi. In occasione della Festa della Repubblica ci sarà una raccolta fondi per aiutare e dare sostegno a queste famiglie. Noi ci siamo. Grazie per il tuo contributo. Grazie per la visione.